ciao amici come state? noi bene anzi oggi benissimo perché cosa stiamo andando a fare? stiamo andando a fare la maglietta stiamo andando al negozio per personalizzare le nostre magliette con l'immagine del nostro canale e non vediamo l'ora così vi facciamo vedere un po' come vengono personalizzate come le stampano è vero? portiamo i nostri amici a vedere come stampano la tua maglietta sei pronto? andiamo amici a tra un po' mi raccomando se volete continuare a vedere questo nuovo video iscrivetevi al canale e lasciate tanti like a dopo ciao andiamo amici andiamo amici eccoci dove siamo? dove siamo? a mini print dove realizzeremo le nostre magliette siamo dove? in via Giacomo Matteotti a Mariano Comense numero 39 entriamo? andiamo vediamo chi c'è ah ma qui c'è la nostra Marcellina che realizzerà? che realizzerà? le magliette sicuro? sì le nostre magliette e com'è Marcellina? e bra? bravissima bravissima e questo è il suo negozio studio mini print quindi amici se volete realizzare dei disegni magliette magliette cosa fai Marcellina? c'è Marcellina tutto cosa fai? ecco faccio un giro così faccio vedere quello che fai forse dalla vetrina è meglio vediamo questo è tutto quello che Marcellina realizza bavaglini, borracce, felpe, asciugamani, borse, t-shirt, ombrelli tutto 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 e ora ci farà vedere come realizza la nostra maglietta soprattutto la maglietta di figlio Gabri ok siamo pronti sei pronto? sì questa è la maglietta di figlio Gabri è tessuto ecologico giusto Marcellina? eh sì, tutto ecologico eh sì, tessuto attento all'ambiente ecologico questa è la stampante meravigliosa è nuova è nuova e nuova soprattutto è partita? sei sicuro? che stamperà? ci sono tutti colori si, controlla bene vediamo cosa arriva da questo stampante sta stampando la nostra immagine ma aspetta ancora ora arriva c'è qualcosa che sta uscendo c'è qualcosa che sta uscendo un cuore un cuore? oh wow ma cos'è? ma cos'è? nooo chi è? chi è? chi è? e chi è? e chi è? wow bellissimo tiriamo tiriamo wow questo è il nostro logo piace adesso i colori saranno belli e acce wow è perché devono riscaldarsi giusto? eh sì si attivano esatto bellissimo ora vedremo il passaggio successivo tieni nella parte? sì vuoi chiedere le dita? no vieni, vedi uno un altro ok divi tu come vuoi anche così? sì più a destra più a sinistra no vediamo ok ok pezzettino qua attacca lo scotch bravissimo bravo qua sopra o lì tanto dobbiamo mettere da tutte le parti sì ma Gabriele stai realizzando la tua maglietta sì ti rendi conto? sì un altro pezzettino che bello ok guardate un po' lì no che effetto bravo così wow adesso non si muove più così quando sarai grande Marcellina avrà tanti ordini verrai ad aiutarla che cosa devi fare ok adesso cosa facciamo? cosa facciamo? andiamo in pressa andiamo in pressa e cosa fa la pressa Marcellina? la pressa adesso portata a temperatura giusta trasferisce l'inchiostro sulla maglietta ahhh capito Gabriele? sì è pronta è pronta è pronta andate in temperatura mettiamo sotto un foglietto sì apri la magliettina di lì ecco il colore non si trasferisce su tutto ma solo sulla storia altrimenti ci ritroviamo doppia doppia quindi per proteggere il colore capito Gabriele? per proteggere il colore ecco adesso cosa facciamo? cosa facciamo? c'è un'altra carta da porno ancora carta stiamo in cucina qui eh sì ma come cucinare qua? eh sì ecco sei emozionato? eccoci allora facciamo salire vieni Gabriele vuoi schiacciare tu la pressa? qua? ok metti qua la manina pronto? sì aspetta eh quando sali a quali temperatura te lo dice quando arriva a 90 si schiaccia giù ok mettiti pure dietro due manine wow arriva? sta salendo ok figlio Gabriele sta per stampare la sua maglietta 81 sta salendo uh emozionato? eh 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 anche per non tiratela giù eh per l'emozione iniziamo a scendere piano piano troppo pesante? aiuto? vai tira 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 giù non la mia polvo pressa pressa ok ce l'abbiamo fatta adesso attendiamo ma sei pronto? sì ah e se poi appare solo la foto di mamma come facciamo? prendiamo lo stesso? sì è pronta è pronta Gabriele è pronta proviamo? solleva uno due tre magia magia oh magia magia ma guarda si è già trasferito qua tieni che bello e l'ha detto a questo è uno scotch speciale sì perché non resta la colla esatto e soprattutto ad alte temperature non si scioglie ah quindi uno scotch apposta mamma mia quanto è bello wow che bello ma poi ha bisogno di un tempo per asciugarsi o è già ah non so il tempo di non bruciarsi scotta eh eh sì ma sta asciugando si si bellissima Gabriele scotch proprio bene 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 ecco qua wow vediamo wow bellissima la mettiamo su? sì sì la proviamo sei pronto? l'hai fatta tu questa eh? l'hai fatta tu l'hai fatta tu amici l'ha fatta figlio Gabri da solo con l'aiuto di Marcellina wow quanto sei felice? tanto amici mi raccomando se volete realizzare le vostre magliette perché Marcellina ha anche il sito internet esatto che si chiama mini print fai vedere dove c'è scritto mini print c'è scritto mini print quindi se volete realizzare le vostre magliette di qualsiasi tipo magliette, cappellini, gadget, tutto Marcellina lo farà con piacere va bene? sì nel frattempo se vi è piaciuto questo video iscrivetevi al canale e lasciate tanti like tantissimi e figlio Gabri vi saluta con la nostra maglietta ciao